Adesso richiamiamo l'Emiros Trio, il trio che ha invece inaugurato il nostro concerto oggi. Loro ci faranno ascoltare un trio di Beethoven, una composizione di musica da camera in tre movimenti. Loro però ci faranno ascoltare soltanto il primo che è un allegro con brio. Dico bene maestro Cutrona? Allegro con brio? Allegro con brio. La composizione è formata da Gioacchino Tubiolo al pianoforte, il maestro Antonino Anselmo al clarinetto e Davide Cutrona al violoncello. Aspettiamo gli ultimi preparativi e poi ascolteremo il trio di Beethoven proposto dall'Emiros Trio. Vi ricordo però che ci faranno ascoltare soltanto il primo che è un allegro con brio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.